Questa scuola è stata davvero interessante, sicuramente impegnativa, con tantissimi contenuti. Già il 20% dei contenuti che Simone e il suo staff ci ha fornito mi ha portato dei risultati tangibili all'interno della mia agenzia. Porta dei risultati strabilianti, sicuramente è molto impegnativo, sicuramente è una grandissima sfida, ma la forza la dobbiamo trovare affinché i nostri clienti non corrano dei rischi e che questi rischi comunque abbiano delle soluzioni per salvaguardare l'importanza finanziaria ed economica delle famiglie.